Ragazzi, buonasera e bentornati sul canale. Allora, volevo dire le tue parole sulla partita del Napoli. Io capisco che, vabbè, l'ossessione, l'ho fatto della Juventus e giustamente ci sta, no? Ci sta che in Napoli si sia venduto una partita per fare il torto alla Juventus, giustamente 0-2, perché sennò non ha altra spiegazione, perché in Napoli non si gioca nulla, né oggi, né oggi, né questa settimana, né la prossima, né l'anno prossimo, non si gioca niente, niente, 0-0, 0-0, 0-0, ci sta, ci sta, avete schiappato due schiaffi dal Bologna, tutti buffoni, però voi due schiaffi dal Bologna, pure voi l'avete preso, l'avete fatto andare il Bologna, il Champions League, matematicamente, e allora avete fatto andare il Bologna, sopra la Juventus, la Juventus dietro, ma non vi preoccupate, è tempo al tempo, l'anno prossimo non fai nel Champions, nel Conference, nel Europa League, non fai niente di niente, se ti sta bene così, sta bene anche a noi, tanto noi, al Mondiale per i club ci siamo, in Champions League ci dovremmo essere, non terzi, ma quarti, o viceversa, quindi, niente da dire, io vi saluto, un abbraccio, e poi facciamo, ciao, per lì ciao, per lì ciao